Arriva il Fondo di Solidarietà dei Lavoratori Toscani per le popolazioni colpite dall'alluvione nelle scorse settimane. Chi lo vorrà potrà donare un'ora del proprio stipendio per sostenere i cittadini alluvionati di Massa Carrara, Grosseto, ma anche delle altre zone colpite. Il Fondo è stato istituito attraverso la firma del documento da parte degli enti coinvolti, sindacati, associazioni degli industriali, Uncem e la Regione Toscana. È un sistema importante di solidarietà sul cui la Toscana si muove in maniera compatta e testimonia quanto queste difficoltà che vivono questi territori veramente enormi trovino nel resto della Toscana un'attenzione dedicata e mi sembra una scelta che conferma il civismo della Toscana. Gli imprenditori, secondo l'accordo, potranno aderire al progetto raddoppiando il valore del denaro donato dai lavoratori. I contributi saranno raccolti tramite un conto corrente chiamato Fondo di Solidarietà Popolazione Alluvionate. La raccolta terminerà entro il mese di febbraio 2013.